sicuramente una partita con venezia probabilmente è stata una delle nostre peggiori prestazioni gli ultimi tempi a livello offensivo credo che comunque sia un po figlia di della settimana lunga che abbiamo avuto il fatto di essere stata terza partita avevamo un po di problemi fisici venezia è stata molto brava metterci in difficoltà non siamo riusciti ad entrare il ritmo mai riusciti a ad avere di mano la partita avere il flusso della partita già subito dall'inizio quindi è stata dura niente prendiamo prendiamo questa sconfitta per imparare Napoli invece sarà una partita molto importante per noi perché appunto venendo da uno sconfitta in casa abbiamo bisogno di questi due punti per la corsa playoff per arrivare il più lontano possibile e sappiamo che d'altro canto anche Napoli ha bisogno di questi due punti per la lotta salvezza quindi sarà come tutte le sfide alla fine di una stagione le ultime due tre giornate si decide un po chi fa i playoff per la retrocessione e quindi con una classifica così corta ogni gara è fondamentale